Doccia gelata per 115 operai della SMIM Impianti, destinatari di lettera di licenziamento, un colpo durissimo al già compromesso tessuto occupazionale locale. Nella missiva firmata dall'amministratore unico dell'azienda si fa riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro perché la chiusura per riconversione della raffineria Eni non consente la ricollocazione alla lavoro del personale in esubero. Giovedì prossimo in prefettura a Caltanissetta doveva tenersi una riunione per affrontare il problema, ma più ancora sono arrivati i licenziamenti. L'azienda è dovuta ricorrere alla mobilità a seguito, si legge nella nota inviata agli operai del diniego da parte del Ministero del Lavoro alla richiesta di proroga della Cassa Integrazione straordinaria per cessazione della ramo di attività. Quanto accaduto nelle ultime ore sono delle provocazioni e noi non le accettiamo, lo dicono i segretari confederali di Cigelle, Cisle, Will, Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania. La SMIM impianti, sottolineano, ha lavori per milioni di euro, non può licenziare. Dire che si tratta di una scelta inopportuna e non solo per il giorno scelto, ieri venerdì santo, è poco, ribadiscono i sindacalisti, perché in verità si tratta di un vero e proprio atto di provocazione nei confronti dei lavoratori del loro sindacato, che ha già detto no alla mobilità. Il prefetto, ricordano le sigle sindacali, già due giorni addietro ha inviato la convocazione fissata per il 31 marzo al fine di comprendere le ragioni di questa assurda scelta. Stiamo parlando di un'impresa, dicono ancora, che dall'ottobre dell'anno scorso deve iniziare un lavoro da milioni di euro per conto della raffineria. Vorremmo sapere le ragioni del mancato inizio. Stiamo parlando di un'impresa che deve erogare mesi di salario ai lavoratori ed il TFR a coloro che sono andati in pensione. È la stessa impresa che abitualmente, sottolineano Giudice, Gallo e Castania, due giorni prima di ogni incontro al Ministero o in Prefettura, esce fuori con queste scelte che aumentano l'attenzione sociale in città. Cigelle, Cisle e Will, assieme alle categorie dei metalmeccanici, non ci stanno e rivendicano lealtà nei confronti dei lavoratori e della città. Lo stesso invitiamo a fare ad Eni, una delle committenti di SMIM Impianti. Le provocazioni le respingiamo con forza.